Uomini e donne gossip, Cecilia Zagarrigo senza freini. Negli ultimi anni il gossip di uomini e donne su Aldo Palmeri sono diventati un'abitudine, ma questa volta un cambiamento radicale del ragazzo ha scatenato molte critiche e poco sostegno, soprattutto su Instagram. Nel frattempo Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice del trono classico, sempre sul popolare social appare delusa e addolorata dalla scelta di Luca Onestini. Prima parte. La delusione di Cecilia Zagarrigo. Probabilmente, Cecilia Zagarrigo ci ha creduto davvero che la scelta potesse essere lei. La ragazza, che in passato corteggiava Oscar Branzani e che era stata chiamata in trasmissione dallo stesso Luca Onestini, aveva finito col prendersi molto di quest'ultimo, e visto come sono andate le cose tra loro, visti i baci appassionati e i progressi nella conoscenza fatti in pochissimo tempo, è normale che la corteggiatrice credesse di poter essere davvero lei, la scelta di Luca, ma così purtroppo non è stato, perché lui ha scelto solo il sorge. Seconda parte. Le parole della corteggiatrice su Instagram. E se Giulia Latini, scoprendo di non essere la scelta, è scoppiata in lacrime intenerendo tutti, e poi scrivendo la sua opinione su Instagram, Cecilia apparentemente l'ha presa meglio, non ha pianto e anzi ha augurato a Luca Onestini tanta fortuna, di cui ha detto avrà molto bisogno. Su Instagram, tuttavia, ha mostrato tutta la sua delusione pubblicando uno scatto di sé accompagnato da queste parole decisamente eloquenti, che rivelano non solo delusione, ma anche sofferenza, quando tutto sembra più grande di te, tu devi diventare più grande di tutto. Ultima parte. Aldo Palmeri e il cambio di look. E per una corteggiatrice che soffre, ce n'è un'altra, Alessia Camarota, che invece è al settimo cielo perché aspetta il secondo figlio del suo Aldo Palmeri, il tronista con cui è sposata e che ha riconquistato dopo mesi in cui sembrava che lui fosse innamorato di un'altra. Ma Aldo evidentemente è un tipo che non può fare a meno dei colpi di testa, e se ora è in modalità perfetto compagno e papà, riversa la sua fantasia sul look, si è infatti rasato i cappelli quasi completamente a zero, facendo venire un colpo a tutti quelli che lo seguono su Instagram, dove Alessia ha pubblicato la foto. A prestissimo con altri gossip di uomini e donne.